Buongiorno a tutti, con il video di oggi concludiamo il mese luglio 1942 partendo dal diario di Ugo Cavallero. Le letture che ci hanno accompagnato in queste ultime settimane ci hanno offerto una visione particolarmente altalenante, contraddittoria di come si è arrivati ad Aramein, in una situazione apparentemente favorevole, ovviamente ogni avanzata è tecnicamente favorevole perché si allontana il nemico, si cerca di guadagnare terreno e ovviamente l'elemento terra-terreno è appetibile per una questione anche di morale o di più ampio respiro all'interno di una campagna, ma sicuramente in Africa settentrionale, nel deserto, ci si fa ben poco, la sabbia non porta dei risultati tangibili, ovviamente anche se ha una sua appetibilità verso degli obiettivi di lungo periodo. La strategia dell'asse si rivela per il momento, e poi sarà sempre peggiore, fallimentare, perché appunto si arriva ad Aramein estremati, con delle linee di fornimento molto lunghe, con una incapacità di poter ottimizzare il traguardo, perché? Perché vi è una situazione tattica difficile, con una strozzatura di territorio, in cui non si può fare manovra avvolgente, in cui i britannici hanno una prevalenza sia quantitativa che qualitativa, oltre ovviamente a una sua componente più generale, gli aiuti dagli Stati Uniti, una situazione che si sta sviluppando in maniera promettente per l'avvenire. Con invece dall'altra parte l'asse con una serie di impegni, e l'abbiamo visto proprio nelle ultime letture di Cavallero, che ha difficoltà a secondare e riduce nelle sue volontà di implementare ulteriormente l'armata in Russia, con problemi in territorio metropolitano, ai confini, la realtà dei Balcani, le possibilità di doversi impegnare in Francia metropolitana, medionale, in Corsica, alla frontiera tra la Libia e la Tunisia, quindi una serie di problemi che si vanno a sommare a una realtà non del tutto risolta nel contesto dell'Egitto. E quindi siamo arrivati al 29 luglio 1942, con anche una serie di problemi ovviamente persistenti con Rommel, con Bastico, lo si vedrà, la gestione, la coabitazione tra Bastico e Rommel è quantomai problematica, sotto tantissimi punti di vista, e ovviamente qui anche Cavallero non riesce sempre a gestire questa disputa, anche perché la situazione è alla giornata, si vive, si naviga a vista, come si suol dire, in senso quello che vale oggi non può valere domani e quindi le posizioni dell'1 potrebbero valere oggi, ma domani non andrebbero più bene e viceversa. In mia assenza, nel frattempo Cavallero era stato, aveva fatto un suo giro di ispezione, quindi in sua assenza Sanzonetti ha presieduto la consueta riunione sui trasporti. Il convoglio di ieri è stato attaccato da otto aerosiluranti e un bombardiere. La scorta era di tre caccia e hanno abbattuto un aereo. Le artiglierie della Torpidiniera ne hanno abbattuto uno e un altro pare abbattuto dall'idro di scorta. Lanciati quattro siluri, due a sinistra e due a destra. Il Monviso è stato colpito da uno che andando in superficie ha fatto poco danno. carico intatto e forse la navigazione può proseguire con i suoi mezzi. Anche la Pisani è stata attaccata nello stesso modo venendo dalla parte del sole. Le torpediniere in quella circostanza abbatterono quattro aerei nemici. Un Bristol Blindham ha ammitagliato le torpediniere. Si conclude che nella mattinata il ricognitore trova il convoglio. La formazione quindi parte da Malta. Un bombardiere attacca le torpediniere di scorta. I siluranti attaccano i due gruppi. Uno a destra e uno a sinistra. Ecco Malta ancora è viva e vegeta. Esperienze queste per i futuri trasporti. Visto che il Monviso non è arrivato a Bengasi potremmo far partire il Sestriera con due torpediniere ma non conviene ripetere per la quarta volta una cosa che è andata male tre volte. Pezzate un po'. Ricevo l'ammiraglio Sanzonetti. Kessering comunica che Pisani e Monviso sono mancati e con i progetti in corso tra ritardo delle navi e tempo occorrente per l'affluenza i mezzi arriveranno solo il 20 agosto alla meta. E' sempre il solito problema. Bisogna mandare tutto il possibile ma con i pochi mezzi che si hanno. Prega di fare qualche cosa anticipando partenza Sestriera e promette 12 aere di continua scorta alle navi. Sanzonetti spiega i motivi che sconsigliano l'anticipo della partenza del Sestriera concludo dicendo al Marcello Kessering e a Forrintelen che senza la necessaria scorta navale torpediniere con ecoconiometro non si possono fare muovere le navi. Perciò il Sestriera non parte isolato domani 30 luglio partirà col grosso convoglio il 3 agosto. Ricevo il generale Varlimont presentato da Forrintelen argomenti, situazioni in Egitto affluenza della divisione Paracautisti e della divisione Pistoia potenzialità della ferrovia di Mars Matruc intendimenti operativi per Alessandria organizzazione del comando Rommel e problema della intendenza. informo che se prendesse questa alle sue dipendenze il comando supremo di qui non potrebbe guidare più il regolare afflusso dei mezzi e mancherebbe anche il contributo dell'OBS questo è l'alto comando sud della Wehrmacht. 30 luglio ricevo Squero nuovo ordinamento da dare alla Libia Bastico basta ormai questo è il parere del Duce è necessario prendere Rommel alla diretta dipendenza del comando supremo Mari Libia ai porti gruppi di squadriglia la parte in tendenza dovrebbe prendere tutto Barbasetti faccio presente che ho anche incaricato il colonnello Bartiromo di esaminare la cosa perché vi è la questione di designato d'armata e comandante di armata è il solito problema delle designazioni degli incarichi rispettivi ai gradi Duce ha quasi promesso a Barbasetti ma noi dobbiamo dirgli se la promozione può darsi o non può darsi questo è un discorso anche di anzianità e anche di periodo di comando del rispettivo elemento comando in guerra esprimo la mia opinione dargli il rango per il solo periodo di comando farlo agire per delegazione del comando supremo Squero mi obietta che il rango importa assegni ed in questo caso il ministro finanze fa difficoltà ecco, è un problema anche di soldi affermo che la procura di avanzamento dei generali è fuori posto la scala dei valori non è sempre rispettata esamino il sistema ed esprimo il parere che si potrebbe rimediare con un decreto perché siamo in guerra affermo anche che il parere della commissione è superfluo è tutta una questione pure di soldi il capo di stato maggiore generale tu, Ambrosio e il parere del Duce potrebbero a mio avviso senz'altro decidere meglio di una commissione se ci sta il capo del governo, il capo di stato maggiore generale il capo di stato maggiore dell'esercito che approvano questa promozione non c'è commissione che tenga concludiamo risolvere la questione Barbasetti con un decretino un decretino per il rango e l'incarico e che per tali avanzamenti in genere la commissione deve essere formata dal capo di stato maggiore generale da Ambrosio, Squero e dal Duce Stabiliamo Squero era il sottosegretario alla guerra Stabiliamo i limiti dei generali che bisogna esaminare Esporrò i concetti al Duce e se il Duce approva pariamo tutto per il giorno 11 Squero comunica che ha la sensazione che laggiù le azioni di Gambara siano in rialzo quindi Gambara potrebbe avere nuovo credito provvediamo a carico di un ufficiale dell'ispettorato di artiglieria che nella fornitura di centralini ha, d'accordo con due civili, fatto salire i prezzi quei soliti tramacci che ci sono all'interno delle forniture si tratta di far guadagnare parecchi milioni dovrebbe avere 24 anni di reclusione ma per non far succedere un grosso scandalo penserò in altro modo i borghesi al confino queste perle di cavallero telefono a Santoro presente il maresciallo Kessering insisto che dobbiamo avere in ogni momento 6 aerei di scorta sui convogli comprendiamo lo sforzo e lo sa anche il Duce ma è indispensabile presiedo la consueta riunione sui trasporti Fouche capo estavaggiore dell'aeronautica specifica dislocazione apparecchi per la scorta maresciallo Kessering insiste che bisogna dare ordini precisi e che richieste di scorta devono arrivare non oltre le ore 13 eccezionalmente al massimo alle ore 17 ricevo dal generale Gariboldi la seguente lettera circa il nuovo orientamento operativo dell'armata in Russia ecco così così come se piove sul bagnato virgolette come ho comunicato col foglio eccetera in data di ieri si è venuto oggi di ieri è venuto oggi al comando armata il colonnello di stato maggiore axe del gruppo armate D a espormi gli intendimenti tedeschi sul nuovo schieramento dei suoi compiti che saranno affidati all'ottava armata a si tratta vedi lucido annesso al 300.000 front del Don da Pavlovsk escluso alla foce dell'Oper tre settori di corpo d'armata due italiani alle ali e un tedesco al centro due divisioni tedesche in riserva però il corpo d'armata italiano di sinistra l'undicesimo avrebbe due divisioni italiane e una tedesca il corpo tedesco centrale ventinovesimo due divisioni italiane e una tedesca quello italiano di destra il trentacinquesimo due divisioni italiane non ho accettato la proposta ho espresso il desiderio di avere il corpo d'armata tedesco costituito da due divisioni tedesche e una italiana in riserva una divisione tedesca e una italiana la terza celere commessa di queste cose non sarebbero successe vabbè apro e chiusa parentesi B alla richiesta se arrivando il corpo d'armata alpino sostituirebbe il corpo d'armata tedesco in tutto o in parte mi sono sentito rispondere con somma meraviglia e dolore che gli alpini avrebbero altra destinazione anche qua apro parentesi e chiudo commesse non sarebbe successo in questo modo l'unità dell'armata italiana promessa ed assicurata sarebbe rotta e si verificherebbe che delle forze italiane in Russia una parte alpini opererebbero chissà dove e alle dipendenze di chissà chi il resto secondo e venticinquesimo secondo e venticinquesimo frammisto all'unità tedesca e a far da guardia al don dove mi si è già detto dovremo svernare oltre a non essere questo impiego unitario delle truppe italiane come si verifica per ungheresi e rumeni è un compito scisso e è che almeno per la Ligo Daldon non è certo brillante e nel compenso presenterà il grave inconveniente per la intendenza di dover provvedere a rifornire due masse in direzione e dislocazione divergenti a lontane su questo Gariboldi non ha torto peccato che non riesce a imporsi c e anche da rilevare che mi è stato comunicato essere ordine tassativo che tra noi e ungheresi dislocati a nord del settore dell'armata vi debba essere una divisione tedesca ragione per la quale è stata assegnata una divisione tedesca al secondo corpo d'armata non vedo questa necessità visti i buoni rapporti fra noi e ungheresi forse non ci sono buoni rapporti tra gli ungheresi e noi comunico quanto sopra accotesto comando perché ne sia a conoscenza e per quei passi che ritenga di fare e che a me non sono concessi derivando le disposizioni su accennate da ordine del comando supremo tedesco non posso fare a meno di accennare al dolore che provo per un simile trattamento non tanto per me personalmente ma specie per l'armata che riteneva essere ben altro il suo impiego aiuto commesse non sarebbe successo si ha quasi la impressione che si voglia impedire l'azione unitaria della massa italiana chiuso il virgolettato quindi incarico Gandin di rispondere in questi termini virgolette il duce è orientato sul concetto che il corpo d'armata alpino venga impiegato nella regione caucasica questo orientamento non è contrario al concetto dell'impiego unitario dell'armata in quanto tale concetto deve intendersi nel senso che l'armata funzioni come tale e non per corpi d'armata ha staccati ma se uno è staccato vabbè comunque il suddetto orientamento del duce consegue da intese di massima che gli deve aver concordato col fiura cioè non si è neanche sicuri nel senso che intese il fiura era addetto e il duce ha incassato tanto si comunica a voi eccellenza perché ne abbiate norma nel trattare e definire la questione l'assegnazione di un corpo d'armata germanico all'armata può anche essere considerata come un risarcimento per il distacco eventuale del corpo d'armata alpino io sono d'accordo con il risarcimento ma se il comandante dell'armata italiana è il comandante dell'armata italiana comanderà italiani non che il corpo d'armata alpino vada un'altra parte per carità tutto si può fare anche il discorso in tutti i fronti pensiamo alla prima guerra mondiale quando un corpo d'armata italiana è andato in Francia e sono arrivate un'armata e mezza circa due mezze armate alleate in Italia ma questo ovviamente è un'altra questione ma è ovviamente un'altra questione perché i tedeschi fanno da padroni e fanno come gli pare il fronte russo e il fronte loro se tu ti vuoi aggregare stai alle nostre condizioni questo è l'antifona che deve essere appresa 31 luglio rediggo bozze da sottopore al duce circa cessazione comando del maresciallo Bastico lo chiama già Bastico ma c'è il maresciallo Q qua ed assunzione di quello di comandante forze armate della Libia passaggio dell'armata corazzata idro tedesca agli ordini del maresciallo Rommel alla diretta dipendenza del comando supremo e di disposizione circa scioglimento del comando superasi costituzione di una delegazione del comando supremo in Africa settentrionale e compiti della predetta delegazione mi rego in volo a Gorizia e partecipo al rapporto che il duce tiene svesenti Ambrosio e Roatta pensate un po' il genere Roatta espone la situazione in Slovenia e nei territori adiacenti e riferisce sulla situazione militare in corso per assicurare l'ordine e la tranquillità in quelle zone illustrando il programma avvenire tranquillità vabbè duce virgolette la relazione del genere Roatta la considero esauriente e promettente di risultati la situazione è nota dopo lo sfacero della Jugoslavia ci siamo trovati sulle braccia la metà di una provincia e bisogna aggiungere la metà più povera i germanici ci hanno comunicato un confine e noi non potevamo che prenderne atto aprile 1941 pure lì abbozziamo inizialmente le cose parvero procedere nel modo migliore la popolazione considerava il timore dei mali il fatto di essere sotto la bandiera italiana fu dato alla provincia uno statuto poiché non consideriamo territorio nazionale quanto è oltre il crinale delle Alpi salvo casi di carattere eccezionale il 21 giugno con l'inizio delle ostilità fra la Germania e la Russia questa popolazione che si sente slava si è sentita solitale con la Russia da allora tutte le speranze ottimistiche tramontarono ci sdomanda se la nostra politica fu saggia si può solo dire che fu ingenua anche nella Slovenia tedesca le cose non vanno bene io penso che sia meglio passare dalla maniera dolce a quella forte piuttosto che essere obbligati all'inverso si ha in questo secondo caso la frattura del prestigio non temo le parole sono convinto che al terrore dei partigiani si deve rispondere col ferro e il fuoco deve cessare il luogo comune che dipinge gli italiani come sentimentali incapaci di essere duri quanto occorre questa tradizione di leggiatria e tenerezza soverchia va interrotta come avete detto è cominciato un nuovo ciclo che fa vedere gli italiani come gente disposta a tutto per il bene del paese e il prestigio delle forze armate questa popolazione non ci amerà mai non mi sorprende che i cattolici vedendo declinare la stella dei partigiani vogliono farsi avanti in genere queste si appalesano situazioni ambigue poiché non si possono respingere si può accettare il loro apporto quasi come una concessione che noi si fa a loro e senza impegni per il futuro considero ultimata la prima fase il ritmo delle operazioni deve essere sollecitato non possiamo tenere tante divisioni in Balcania occorrerà per noi aumentare le forze alla frontiera occidentale e in Tripolitania richiamo l'attenzione sul servizio informazioni che è qui molto difficile ma quindi tanto più deve essere ben organizzato la reazione a cui un compito abbastanza importante questo territorio deve essere considerato terreno di esperienza non vi preoccupate del disagio economico della popolazione lo ha voluto né sconti le conseguenze così non mi preoccupo dell'università l'università di Lubiana il cervello della Slovenia rappresentò il centro della cospirazione della rivolta contro gli occupanti c'è una nota quindi così non mi preoccupo dell'università che sarà un focolaio contro di noi non sarei alieno dal trasferimento di masse di popolazione finisce piccolettato il rapporto è durato circa due ore riparto in volo per Roma mi sembra che c'è tanta carne al fuoco qui abbiamo visto tanto sul fronte africano tanto sul fronte russo e tanto sul fronte jugoslavo questa forse è una delle letture migliori potrei dire oserei dire dell'intera dell'intera analisi di questo diario ci sono in tre giorni in 29 30 e 31 c'è una condensazione è condensata una serie di informazioni di aspetti di rivelazioni all'interno anche delle dinamiche abbiamo appunto il problema anche Barbasetti che non è da poco è un problema che si propone in maniera ricorrente all'interno delle promozioni degli incarichi quello ha comandato questo quello ha comandato quell'altro quello ha appoggiato da quello e quello ha appoggiato da quell'altro con una serie anche di invidia che ovviamente la fanno come al solito da padroni detto questo come al solito vi invito a mettere mi piace iscrivetevi al canale e alla prossima ciao